Una creatura mostruosa. Signor Rossi, come l'ho detto, questa casa sta parlando di ottime condizioni, va? È nuova. Facciatevi fare una notte se vuole. Sì, andiamo sui miei stanzi. Venga, venga. Mi faccio strada, venga. Sì, perché il prezzo è ottimo, per me non ho fame. Vabbè, per il pagamento, per il pagamento deciderei, assegno, limite, un... Ma cosa è successo? Non lo so. Non lo so. La paura sui loro volti. Non puoi nederli. Puoi solo sentirci. Mario, mi chiamo soccorsi, per me. Tu, cazzo. Tre morti al cinema.